quando consiglio dove andare ai nostri ospiti che alloggiano l'usteria posta allora dico sempre sempre ogni tanto dico ma perché non andate alle edelweiss e mi chiedono dove cos'è edelweiss è una piccola valle proprio vicino laterale a col fosco ovviamente magari tutti di fretta che fanno il cellaronda non la vedono proprio le cartine sulle cartine sfugge questa piccola valle con tre impianti quindi oggi vi mostriamo come arrivarci prima cosa ci dirigiamo verso corvara come si raggiunge corvara lo vedete quassù in modo più veloce e poi ci dirigiamo verso col fosco ci troviamo sull'altipiano del pistavilla dietro una bellissima vista sul sassonga gabriel ti ricordi perché si chiama questa seggiovia braia fraida sì perché è così fredda perché così fredda così fredda ma cosa è freddo le brade le mutande braia fraida le mutande fredde buono 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 la nuova super seggiovia otto posti soddisfia sedili riscaldati per un coletto sano come il culetto ecco siamo a col fosco e qua questa ovovia porta al edelweiss che faremo dopo edelweiss con i piatti del col palarat del porcellas e dell'alpina per chi manca da qualche anno questa è la nuova seggiovia stella alpina che ha sostituito quello che era il bellissimo ski lift che arrivava fino in cima proprio alla valle stella alpina o edelweiss siamo ai piedi del sassonger eccolo qua in cabina di regia io e io, adriano, raffael guten morgen guten morgen liebe sonne etwas per un sede del chiesse in deutschsprache ja, è tutto, oggi è un buon giorno il sole è freddo e tutto è bello e per i nostri spielli in inglese Ehi ragazzi, ragazzi, per la nostra testa inglesa? Sì, sì, buono Il snor è molto buono Il snor è molto buono, sì, meraviglioso Ovo via del Col Pradat che ci porta ai piedi del Sassonare e adesso via, vai! Siamo appena scesi per il ripidone del Col Pradat Ed adesso risaliamo con la seggiovia Fort Celles L'Edelweiss È un posto spettacolare Perché per quasi tutta la giornata c'è il sole Quindi perfetto per chi vuole un po' di calura anche in giornate fredde e inverno Poi si trova in questo avvallamento, Cordillassi Val Puez E questo avvallamento non è protetto anche dal vento Ecco qua, stiamo arrivando in cima al Fort Celles E questo è un posto che mi è sempre piaciuto per la vista Vediamo E qua la Val Mezzdì Vi ricordate la nostra sciata a fine stagione l'anno scorso con un polverone? Lo trovate poi nell'angolo qua e il link per vedere la sciata dalla Val Mezzdì Se vi chiedete perché si fermano tutti là, beh, guardate che posto spettacolare per delle foto All'orizzonte vediamo anche il Sassolungo Il gruppo del Sella, la Val Mezzdì La Civetta La Civetta Tufana de Rozzes Sassolungo Il Pelmo Pronti per una bella sciata? Avanti Sassolungo 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 Uno D Come è il Fun Park Colfosco? lasciamo ora la stupenda col fosco per dirigerci piano piano verso casa la stupenda colina ecco la nostra giornata sugli sci è in conclusione andiamo a mangiare qualcosa e colgo l'occasione per dire a tutti grazie grazie per tutti quelli che vengono a trovarsi in albergo a tutti quelli che ci ringraziano per i video fatti durante l'inverno fa molto piacere quindi ci rivediamo